Buongiorno ci siamo al lunedì 14 oggi pomeriggio abbiamo la visita per Francesco a Pisa e mi sono svegliata alle 5 stamattina con un mal di pancia forte e se c'è ancora zitta per oggi e quindi niente stamattina sveglia all'alba non vedo l'ora che sia oggi speriamo di farlo sto cercando di come al solito cerco di essere ottimista e focalizzarmi sul pensiero positivo però l'ansia può prendere il suo provvento allora comunque sveglio Francesco e adesso lo accompagniamo a scuola stamattina fa particolarmente freddo infatti mi sono messo il giubbino abbiamo portato Francia a scuola abbiamo fatto un salto alla coppa e ora è sceso un attimo qui al panificio a prendere la pacaccia e se ci fosse una briochina vuota perché quella della coppa non è una raga neanche un'altra volta e appena torniamo portano fuori i cani al panificio mi ho preso una brioche vuota vediamo focaccia setta alla coppa abbiamo preso i frullini all'uovo polpa di pomodoro pane per sandwich due traverzini per Francesco se oggi vuole mangiare al volo magari quando torniamo dalla visita latte zimil 6 da mezzo litro questa volta perché ultimamente mangiamo tutti il latte e poi prosciutto crudo vegetariano e estate zero basta ok faccio queste cose faccio colazione e do una sismata alla casa e mi tengo impegnata così non mi faccio venire troppa ansia allora questa notte è molto freddo quindi mi aggiungo una coperta a letto bella profumata mi sono accaldata facendo di male faccende stamattina tra un po' mi ero fredda ma per il momento ho appena finito di amare per terra ho fatto tutto ho fatto anche i bagni e adesso sono le condici metto subito a caricare il video per oggi poi mangiamo, portiamo fuori cani andiamo a prendere i canci in scuola e andiamo siamo tornati la dottoressa ci ha detto che questa infiammazione che ha è normale in azione preoccupante e un po' di infiammazione e niente appunto è normale prossime visite da fare visita esame oddio non mi ricordo come si chiama però ho detto praticamente con degli aghini mi passano una piccola scossa madonna scusate ho visto delle persone sul tetto e dopo o magari ve lo scrivo come si chiama questo esame e così insomma un ulteriore esame per vedere come rispondono i muscoli agli stimoli e poi visita ortopedica che ci prenoteranno loro per poi valutare l'operazione alla fine si va a finire comunque all'operazione di allungamento del tendine sono così contenta e sono molto più tranquilla adesso e ci hanno anche detto che può tranquillamente fare sport quindi a fine mese lo iscriviamo subito alla palestra di air climbing almeno è contento sono contenta sono tolta un peso anche oggi e il 12 dicembre c'è questo esame che non mi ricordo il nome dio santo allora abbiamo fatto un salto alla cup per prendere le pizze così stasera ci andiamo con la pizza così per festeggiare e io mi sono ripresa questa qui alle verdure che era proprio buona tra l'altro sono ancora in offerta queste qui della Butoni Francesco al salame piccante e Marco la margherita poi fantastico e una mozzarella ok ora vado a fare la doccia ciao amore ciao sono tanto felice sai dalle basile comunque la portinaia non si è più fatta sentire boh non capisco ancora mai l'ultima volta mi ha detto che appunto dovevamo fare ancora un sacco di cose o che addirittura ci dovevo andare io da sola perché non ci potevo andare e poi invece è sparita boh vabbè tra l'altro c'è anche l'appartamento al terzo piano che io devo ancora andare a pulire che la signora non si è più fatta sentire che mi ha già pagata vi ricordate? e mi aveva detto che il 15 metà settembre dovevano mettere le zanzariere e dopo io sarei dovuta andare a pulire e che mi avrebbe avvisata lei quando potevo andare e non mi ha più fatto sapere niente ho anche chiesto alla portinaia le zanzariere l'hanno messa al terzo piano no non lo so ora siccome iniziano i lavori della facciata forse aspettavo di fare tutto insieme così poi vado a pulire dopo tutto il caos dei zanzariere e lavori della facciata che sicuramente si sporcherà anche in casa non lo so e la cosa brutta è che sono già stata pagata per questo lavoro che metto ma vorrei togliermi il pensiero ecco doccia fatta che bello ora vado a rilassarmi un'oretta poi prepariamo le pizze forse Francesco non la vuole non lo so è ancora indeciso come nel caso cucinerò qualcosa per lui e poi faccio le pizze e io sono morendo di fame oggi al pranzo ho mangiato solo un panino basta non ho mangiato nient'altro praticamente mi sto veramente morendo di fame adesso tra l'altro mentre eravamo lì nello studio dopo che la dottoressa ci ha detto che possiamo stare tranquilli non c'era da preoccuparsi ha iniziato a bontolarmi la pancia tipo mi è venuta fame istantanea che fame buon appetito ho mangiato adesso sto molto meglio e comunque di poco come si chiama la cosa che deve fare? elettromiografia e niente comunque devo dire che sono veramente bravi loro sono gli unici che hanno fatto la loro visita iniziale e poi ci hanno prenotato le visite successive la risonanza adesso questa qui e la visita ortopedica ci prenotano tutto loro e gli stanno facendo fare un percorso unico almeno uno cioè anche perché poi tutte le volte che cambi medico vai a fare un'altra visita di stargli spiegare tutta la storia meno male che ho fatto questo fascicolo questo album con tutte le visite tutte in ordine cronologico almeno gli do questo guarda dall'inizio alla fine comunque vado a mettere il pigiama nei pettini i capelli e mi rilasso un po' ho proposto a Francesco di entrare due ore dopo domattina perché le prime due ore ha educazione fisica quindi anche se la salta non fa niente non so cosa ha deciso nel caso ne approfitterei a dormire un pochino di più anch'io però vediamo perché comunque lui piace in realtà l'educazione fisica si diverte vediamo comunque è sparecchio le faccio mettere il pigiama finalmente ok pigiama messo mi sono pettina facciamo rinno ora faremo la cartella se stiamo la cucina e poi mi rilasso un po' prima di andare a dormire e quindi niente vi saluto vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao